Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo webinar organizzato dall'Accademia dei Pazienti su dei temi che saranno via via svolti tra queste e le successive, sono tutti temi che toccheranno il nostro quotidiano e tutti temi che riguardano il mondo ovviamente della ricerca e dello sviluppo dei farmaci o comunque dell'uso del nostro quotidiano dei farmaci. Due parole al volo per spiegare un attimo il motivo di queste trasmissioni così, di questi webinar, il fatto che l'Accademia dei Pazienti nasce come organismo che si occupa di fare appunto formazione a 360 gradi su pazienti e non solo su pazienti ma anche su altre istituzioni, su altre persone. L'idea appunto è di iniziare con questo ciclo di webinar che ovviamente toccheranno vari argomenti dopo quello che è stato un primo corso anche organizzato sempre dall'Accademia sul percorso di ricerca e sviluppo dei farmaci. Quindi l'idea appunto di cominciare questi cicli tematici e di portarli direttamente disponibili a tutti tramite web e quindi poter essere ascoltabili facilmente e poi eventualmente vi dirò anche come poterli rivedere. Iniziamo raccontando un attimo il fatto di chi sono io. Io sono Stefano Mazzariol, sono uno delle persone che ha affrontato il percorso di formazione EUPATI sul percorso di ricerca e sviluppo dei farmaci a livello europeo. Sono 14 mesi di corso molto intensivo per riuscire ad avere appunto la certificazione come paziente esperto in innovazione terapeutica. L'Accademia dei pazienti è l'organismo che in Italia rappresenta il progetto EUPATI ed ha appunto preso carico la rappresentanza del suo modello formativo che inizia anche in questa nuova modalità dei webinar. Introduco velocemente quelli che sono gli ospiti che ho questa sera, i nostri illustri ospiti. Abbiamo qui alla mia destra il dottor Luigi Santoyemma che è un medico di medicina generale, un medico di famiglia, è uno specialista in farmacologia clinica, lavora nell'area nazionale della società italiana dei medici di medicina generale, fa parte della commissione tecnica del farmaco della regione Puglia ed è il segretario del supporto dell'UBI e dell'AIFA. Dalla mia sinistra invece abbiamo il professor Pierluigi Navarra che è un farmacologo dell'Università Cattolica di Roma, lavora al Politecnico Gemelli, da molti anni è consulente per l'Agenzia Italiana del Farmaco dove si occupa appunto di valutare le richieste di autorizzazione all'emissione in commercio di farmaci generici o equivalenti che è il nome corretto da utilizzare. Infatti è di questo di cui parliamo in questo primo incontro, è un tema molto caldo che tocca un po' la quotidianità di tutti noi e spesso abbiamo a che fare con questo argomento che sono appunto i farmaci equivalenti. Io partirei, il mio ruolo qui oggi è quello appunto di fare il paziente e quindi farò delle domande appunto da paziente ai nostri ospiti i quali risponderanno. Volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa che chi vorrà intervenire facendo delle domande che saranno ovviamente magari diverse dalle mie e ha delle curiosità da risolvere e da chiedere ai nostri ospiti, lo può fare cliccando in alto sopra alla nostra immagine sul sito di Animating, c'è un'iconetta con un fumetto con un elenco di punti, cliccando lì è possibile con la tastiera digitare le domande che compariranno qui e poi a rotazione verranno fatte i nostri ospiti. Quindi io inizio, non perdo altro tempo nella descrizione un po' di questa giornata e volevo chiedere al professor Navarra se ci spiega un po' che cosa sono appunto i farmaci equivalenti. Sì, grazie, buonasera a tutti. Dunque bisogna partire un po' da lontano per capire il concetto di farmaco equivalente. Intanto vorrei dire che i farmaci al giorno d'oggi sono nella quasi totalità dei casi dei prodotti industriali, cioè a dire c'è pur sempre una possibilità che il farmaco venga preparato direttamente in farmacia, i cosiddetti farmaci galenici, però nella maggior parte dei casi il farmaco è un prodotto industriale particolare perché diciamo lo scopo del farmaco non è un consumo come altri generi di consumo, ma diciamo l'obiettivo del farmaco è la tutela della salute, però c'è questa dimensione industriale, quindi le aziende farmaceutiche sviluppano farmaci, quando il farmaco è ancora in fase di studio, quindi alle volte è ancora molti anni prima che arrivi sul mercato, l'azienda farmaceutica ha la possibilità di mettere un brevetto, come si dice, di brevettare la molecola. Da quel momento in poi per un certo tempo, che è un tempo di circa 20, tra i 20 e i 25 anni, quel farmaco non è copiabile, è una proprietà protetta da brevetto da parte dell'azienda che appunto sta sviluppando il farmaco. Poi il farmaco arriva sul mercato, sapete che c'è anche un nome commerciale, il cosiddetto brand, e il brevetto dà una protezione, il farmaco non può essere prodotto da altre aziende, fino a che poi dopo non arriva il momento che c'è la scadenza del brevetto, quindi dopo tanti anni dalla dal momento iniziale di copertura della... e da quel momento in poi è possibile che altre aziende producano farmaci che hanno lo stesso, poi diremo meglio come sono fatti i generici, però diciamo a quel punto è possibile avere dei farmaci che sono copie del farmaco iniziale e quindi sono i farmaci equivalenti. Benissimo, grazie, chiarissima che spiegazione. Volevo chiederle una cosa che è un dubbio che viene spesso ai pazienti e con i quali spesso ci si confronta nella quotidianità. Ci sono differenze tra i farmaci equivalenti e i farmaci di marca, i farmaci di riferimento? Allora sì, c'è qualche differenza, ma ad ogni modo la cosa importante è che secondo le norme internazionali che regolano la produzione dei farmaci generici, i farmaci generici, adesso uso questo termine per familiarità o equivalenti, sono sinonimi, devono avere per legge la stessa composizione quali quantitativa di principio attivo rispetto al farmaco originatore, al farmaco a cui fanno riferimento. Quindi il principio attivo significa noi compriamo aspirina, si può dire, principio attivo acido acetilsalicilico, quindi un farmaco che volesse copiare aspirina deve avere lo stesso principio attivo acido acetilsalicilico, la stessa quantità. Quindi se nel prodotto originale ci sono 500 mg, la copia conterrà esattamente 500 mg, quindi la parte essenziale è mantenuta. Poi ci possono essere differenze, per esempio la mia copia può contenere un aroma al limone per essere più piacevole al gusto e quindi ci possono essere differenze che sono negli eccipienti, quindi nella formulazione farmaceutica, ma quello che deve essere garantito da norme di legge internazionali, quindi anche che riguardano l'Italia, è che ci sia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di principio attivo. Perfetto, benissimo. Invece al dottor Santoyemma volevo chiedere perché i farmaci equivalenti poi alla fine nel banco della farmacia costano di meno? Beh, c'è intanto il motivo principale è che il farmaco equivalente riproduce un farmaco di cui il brevetto è scaduto, ma per dimostrarne la sicurezza, cioè l'assenza di effetti collaterali gravi e l'efficacia, cioè quello che noi chiediamo al farmaco, non deve sottoporre il suo farmaco a tutta una serie lunga di studi e di ricerche. Serie lunga e costosa, si stima diciamo in maniera approssimativa, ma insomma in media ci sta, che l'individuazione di un farmaco nella ricerca, il suo sviluppo fino al momento della prima commercializzazione, possa costare anche intorno all'ordine di 100 milioni di dollari, cioè cifre molto importanti. Tutta questa fase è risparmiata, il farmaco si riferisce a un modello che è già in commercio, che è stato testato, che è sicuro, che è efficace, lo riproduce nella stessa composizione, come diceva il professor Navarra, e lo commercializza. Tutta questa fase di costi ingenti ovviamente non li deve sopportare. Naturalmente c'è anche il fatto che se non costasse abbastanza di meno non sarebbe concorrenziale con il farmaco di cui si pone come competitore, quindi la differenza si va a individuare soprattutto in un costo più accessibile e questo mette in moto una serie di meccanismi favorevoli che sono quelli della competizione, della concorrenza, non c'è più monopolio di un farmaco coperto a brevetto, ce ne possono essere 20 con lo stesso principio attivo e ovviamente ognuno è interessato a prendere un pezzo di mercato e quindi tenderà ad abbassare il prezzo fino a che è possibile e questo crea una spirale favorevole dal punto di vista del costo del farmaco. Bene, grazie. Però chiaramente noi pazienti non conoscendo quelli che sono i prezzi dei farmaci, vorremmo cercare anche di capire come possiamo fare noi a capire quando ci troviamo davanti ad una scatoletta di un farmaco che sia un generico equivalente oppure al farmaco di marca. Allora, intanto distinguiamo un po' di situazioni possibili. Con una premessa, produrre un farmaco noto di cosiddetta sintesi chimica, cioè un farmaco che richiede un'ingegnerizzazione particolare, costa oggettivamente poco. In una scatola di 30 compresse che al pubblico possono costare 4 euro, tolto l'imballo, il cartone, l'alluminio eccetera, il foglietto illustrativo, il costo di una singola compressa è veramente di nemmeno forse un centesimo, quindi il costo intrinseco di produrre un farmaco una volta che l'abbiamo individuato è molto basso e quindi anche un costo di pochi euro può essere comunque remunerativo e non devo per forza immaginare che se costa 20 euro è fatto con una qualità 20 volte superiore alla sua coppia che costa un euro. La qualità è sostanzialmente la stessa. Come posso fare a capire se il mio medico mi ha prescritto un farmaco generico o un farmaco a brand diciamo o me lo dà il farmacista. Intanto c'è uno strumento predisposto dall'agenzia del farmaco che sono le cosiddette liste di trasparenza che sono accessibilissime con un comune computer su internet si cercano e troverò tutti i farmaci che sono presenti in queste cosiddette liste di trasparenza che sono farmaci generici equivalenti, compreso il farmaco originatore da cui tutto è partito. Oltretutto sulla scatola troverò l'indicazione farmaco equivalente perché può succedere sia che il produttore decida di vendere il farmaco col nome del principio attivo che può essere amitriptilina eventualmente seguito dal nome della produttore o di dargli un nome di fantasia. Ma in ogni caso se quel farmaco è stato registrato in quanto generico equivalente quindi sottoposto a questo tipo di normativa e di accesso al mercato questa informazione deve essere presente esplicitata sulla confezione quindi io ho tutti i modi che mi servono per sapere cosa sto prendendo a parte il fatto che lo posso chiedere al mio medico al mio farmacista e avere ovviamente tutte le informazioni necessarie. Ecco questo mi sembra un concetto molto importante il fatto che non solo il farmaco di marca originario abbia un nome eventualmente commerciale ma lo può avere anche l'equivalente. L'importante è che sia riportato appunto la dicitura sulla scatola ed è il modo per riconoscerlo. Questa è una cosa molto importante, un'informazione che può essere utile. Una domanda. Il farmacista nel momento in cui ha in mano una prescrizione di un farmaco può anche cambiare il farmaco che ha prescritto il medico dando un farmaco generico per esempio? Allora esiste tutta una serie di leggi che regolano la facoltà del farmacista di modificare la prescrizione ricevuta dal medico che in linea di principio dovrebbe essere esaudita esattamente nei termini in cui è scritto. Ma al di là del farmaco equivalente può succedere un'altra condizione. Il medico prescrive un farmaco non a brevetto scaduto, non equivalente, originale, che in quel momento manca. Manca nel circuito distributivo il farmacista non se ne può approvvigionare in nessun modo. In quella data situazione il farmacista informando il paziente che sta operando una sostituzione può procedere a sostituire quel farmaco con uno con le stesse caratteristiche appartenenti alla stessa classe terapeutica nell'interesse prioritario di assicurare al paziente un farmaco efficace per una certa patologia. Ovviamente in questo caso ci si informa il medico, si dice guarda che questo è introvabile, posso col tuo consenso erogare, questo vale per qualsiasi farmaco. Per quello che riguarda l'erogazione del farmaco equivalente ovviamente sono nate delle indicazioni normative ad hoc per questa situazione. E quindi il farmacista cosa fa nel momento in cui riceve una prescrizione di un farmaco? Indipendentemente se è un originator un farmaco equivalente se per quel farmaco è prevista per il paziente una quota da pagare perché non ha il prezzo più basso di quella molecola in quel momento, informa il paziente e gli dice guarda su questo farmaco tu hai da pagare 1,50 euro di differenza. Se ritiri questo che è un equivalente e ha la stessa composizione, la stessa forma farmaceutica e quindi ti devi aspettare lo stesso effetto non avrai da pagare alcuna differenza. La legge obbliga il farmacista a dare questa informazione e a proporre la sostituzione con un farmaco che la normativa assicura essere sostanzialmente identico senza dover affrontare una spesa extra. Questo perché in un elenco anche di 20 farmaci il primo a brevetto scaduto e le sue copie può succedere che esistano delle differenze spesso limitate a pochi centesimi ma a volte anche di parecchi euro, benché si tratti sempre dello stesso principio attivo e della stessa quantità di farmaco in ogni compresse, in ogni unità posologica. Se il farmacista invece riceve una prescrizione per un farmaco a brevetto scaduto per il quale non è prevista una differenza a carico dell'utente, potrebbe capitare che non abbia in farmacia esattamente quel generico perché ripeto ci sono per farmaci di grande diffusione anche 20 farmaci generici a breve che condividono il brevetto scaduto e non è ragionevole pensare che il farmacista in farmacia possa avere 20 copie uguali dello stesso farmaco poi moltiplicato per tutti i farmaci. In questo caso informando il paziente può dire questo farmaco è sostituibile con questo che io ti do perché è esattamente la stessa identica cosa. È sempre opportuno che informi il paziente, che non crei confusione fra il nome che vedo sulla ricetta e quello che assumo, a volte le differenze possono essere anche il colore della scatola e quindi qualcosa che può trarre l'inganno poi il paziente sul fatto che quello è proprio il farmaco che ha ricevuto. Ovviamente questo diciamo gli è concesso fare proprio in virtù di una normativa specifica che è nata per sostenere la diffusione del farmaco a brevetto scaduto del farmaco equivalente. Benissimo grazie. Un'altra cosa importante sappiamo quando si parla di farmaci che oltre che di prezzi bisogna parlare di qualità, efficacia e sicurezza perché sono le cose fondamentali che tutelano le persone e soprattutto fanno l'azione terapeutica verso le persone in maniera sicura. Quindi chiedo al professor Navarra in questo caso chi è che ha il compito di controllare qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci generici equivalenti? Sì, le aziende che producono generici devono fare richiesta ed ottenere un'autorizzazione per immettere sul mercato il loro prodotto, quindi questa richiesta poi va fatta alle agenzie regolatorie competenti per territorio e ci possono essere delle strade diverse. L'azienda può fare una richiesta in molti paesi europei oppure può fare una richiesta in un unico paese, per esempio un'azienda che è interessata a vendere il suo farmaco in Italia può fare una richiesta esclusivamente per l'Italia. Per l'Italia diciamo sia che si tratti di richieste a carattere solo nazionale, sia che si tratti di richieste che riguardano diversi paesi europei però in cui sia inclusa anche l'Italia, in tutti e due i casi l'organo competente per i controlli di qualità, sicurezza ed efficacia è l'Agenzia Italiana del Farmaco. E allora c'è innanzitutto un controllo alla fonte perché l'azienda che richiede l'autorizzazione deve presentare un cosiddetto dossier registrativo in cui devono essere contenuti tutti gli elementi, diciamo tutte le prove di qualità del prodotto, qualità della diciamo la tecnica farmaceutica, tutto quello che sono gli aspetti di diciamo proprio manifatturieri più diciamo prove di efficacia e di sicurezza. Adesso sulle prove di efficacia e sicurezza c'è da dire che ci sono dei percorsi agevolati perché ovviamente un farmaco che sia già presente sul mercato, la molecola è già conosciuta da tanti anni, tantissimi anni quindi non è necessario rifare tutte le prove di efficacia, ci sono delle prove di efficacia surrogate, diciamo una specie di scorciatoia che viene concessa per questi farmaci e che poi magari forse più avanti avremo modo di parlarne più in dettaglio. Ma una cosa importante da chiarire che per quanto riguarda l'aspetto di qualità del prodotto, quindi diciamo la parte del dossier registrativo che riguarda la cosiddetta quality, allora la qualità del prodotto deve rispondere agli stessi requisiti che vengono richiesti per un farmaco originator, quindi non ci sono sconti che le agenzie fanno riguardo alla qualità del prodotto equivalente. Ecco questo penso sia un concetto molto importante. Per di più c'è da dire che poi se un farmaco è stato originator, è stato messo sul mercato 10-15 anni prima e poi non è stato più rivisto l'aspetto della qualità produttiva, si può anche verificare che il farmaco che viene prodotto oggi nel 2017 in termini di qualità produttiva pur essendo un equivalente potrebbe avere degli aspetti di superiorità o comunque non può essere inferiore in termini di qualità rispetto al farmaco originator. E questo è solo per quanto riguarda il controllo ai blocchi di partenza, quando il farmaco deve essere immesso sul mercato. Poi ci sono anche controlli successivi alla commercializzazione che riguardano sia un'attività che è sempre a capo, fa capo all'AIFA di ispezione delle officine produttive per esempio, che ovviamente è un'attività a campione perché non si può controllare tutte le officine farmaceutiche che sono presenti, però insomma con un criterio a campione c'è un'attività di controllo anche per esempio se dovessero arrivare delle segnalazioni di scarsa qualità e quindi si fanno delle ispezioni mirate e c'è un'attività di controllo, di farmacovigilanza, cioè raccolta di eventi avversi post marketing, quindi successivi alla commercializzazione, che per i farmaci generici funziona esattamente alla stessa maniera di quello che è il funzionamento di raccolta di dati di reazioni avversi ai farmaci per i prodotti, per i farmaci cosiddetti originator. Quindi le aziende che producono farmaci equivalenti devono avere un loro sistema di farmacovigilanza, raccolta dati eccetera, che funziona esattamente alla stessa maniera della diciamo di quello che fa l'azienda che produce e vende il farmaco originator. I livelli di qualità di controllo sono a questi step e a questi livelli diciamo assolutamente assimilabili a quello che si fa per un farmaco originator. Tra l'altro mi viene da pensare nel momento in cui un equivalente entra in commercio attinge anche magari a tutta un'esperienza che si è fatta precedentemente a livello di effetti collaterali o di sicurezza sul farmaco di marca. Assolutamente la come dire questo è quello che viene in due parole viene definito il rapporto beneficio rischio di un farmaco cioè quanto quanto ci aspettiamo di vantaggi terapeutici da una parte e quali sono i rischi che il farmaco possa fare male quando il farmaco equivalente quando arriva sul mercato il suo rapporto di beneficio rischio inteso come molecola è ben consolidato quindi diciamo possiamo da questo punto di vista possiamo star tranquilli. Dobbiamo stare attenti a che magari una diversa composizione farmaceutica possa portare qualche problema specifico però diciamo poi rispetto alla in generale al rapporto rischio beneficio del principio attivo è ovvio che noi diciamo che abbiamo già una conoscenza ampia del farmaco nel momento in cui arrivano gli equivalenti sul mercato certo certo e oltre alla qualità e la sicurezza tra l'altro nel momento in cui si prepara il dossier per un generico salta fuori anche un nuovo concetto rispetto al farmaco di marca che è la bioequivalenza. Si. Ci vuole spiegare velocemente di che cosa si tratta? Allora riallacciandoci un po' a quello che avevo detto in precedenza il farmaco generico e poi anche quello che diceva Luigi il farmaco generico non deve rifare una diciamo una serie completa di prove di efficacia per arrivare sul mercato sarebbe non etico prima di tutto oltre che poco utile sotto tutti i punti di vista però è ovvio che noi dobbiamo avere delle prove surrogate di efficacia che sono comunque una sorta di scorciatoia per il farmaco generico quindi come si ragiona? Allora se il farmaco equivalente una volta assunto dal paziente raggiunge nell'organismo gli stessi livelli di concentrazione e quindi diciamo nell'organismo ma poi noi per comodità questi livelli di di concentrazione li andiamo a misurare nel sangue quindi se ci sono se c'è un'uguaglianza di o diciamo statistica no? Di eh nei livelli di concentrazione plasmatico quindi tanto farmaco c'è tanto effetto farmaceutico e farmacologico per meglio di terapeutico io mi aspetto quindi anziché misurare l'efficacia terapeutica io misuro i livelli plasmatici se i livelli plasmatici sono statisticamente sovrapponibili rispetto a quelli dell'originator io mi aspetto che ci sarà anche un'uguale efficacia terapeutica quindi è una cosiddetta dimostrazione surrogata di eh di di efficacia che però è molto più semplice no? Si si fanno questi esperimenti che vengono detti test di bioequivalenza per cui eh uno stesso gruppo di eh di soggetti che poi in genere sono volontari sani assume il farmaco originator o il farmaco diciamo prima il farmaco originator e dopo un po' di tempo il farmaco equivalente o viceversa no? Quindi c'è un incrocio e poi dopo in questo stesso soggetto si misurano i livelli di concentrazioni plasmatiche che conseguono alla somministrazione di un farmaco e dell'altro chiaramente il soggetto è sempre lo stesso per cui noi possiamo vedere le le diciamo le concentrazioni plasmatiche confrontare nello stesso soggetto di quanto si sovrappongono questi valori per evitare una variabilità intrinseca delle persone quindi poi ovviamente un unico soggetto non è non fa testo una rondine non fa primavera c'è sempre una certa numerosità richiesta per fare questi esperimenti però alla fine noi abbiamo una eh diciamo una prova di equivalenza di concentrazioni plasmatiche che chiamiamo che chiamiamo bioequivalenza perché si fa se il farmaco equivalente avesse esattamente la stessa composizione non solo in principio attivo ma anche in eccipienti fosse del tutto identico rispetto all'originator noi ci aspetteremmo come dire una ampia sovrapposizione no? Però dato che appunto io dicevo prima ci può essere qualcosa che cambia no? Può essere un eccipiente no? Allora noi dobbiamo avere la sicurezza che la diversa eh composizione farmaceutica però non impatti su processo di assorbimento e la la diciamo i livelli di farmaco che poi arrivano in circolo e quindi eh viene richiesto questo test obbligatoriamente quindi diciamo nel nel dossier registrativo ci deve essere questo studio di bioequivalenza che deve dimostrare la bioequivalenza rispetto al farmaco originator e questo si fa tutte le volte in cui come dire c'è un processo di assorbimento quindi per cui ci possono essere delle differenze nei livelli di farmaco che arrivano nella nell'organismo. Il test di equivalenza di bioequivalenza non è nemmeno necessario nel caso in cui per esempio noi abbiamo una eh questo forse un attimino più complicato come concetto però eh un generico di un farmaco iniettabile endovena non deve fare un test di equivalenza perché va direttamente tutto il farmaco che c'è ala arriva in circolo non si sbaglia no? Quindi eh ovviamente il test di bioequivalenza è necessario solo in quei casi in cui possiamo pensare che il processo di assorbimento possa introdurre delle differenze di comportamento cinetico fra l'originator e il farmaco equivalente. Quindi l'assorbimento, la distribuzione ed è anche il suo metabolismo. Eh sì, quando studi il diciamo come eh i profili di cinetica nel 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 circolo quindi nel sangue. Sei sei poi in grado di capire anche tutto quello che succede intorno alla quindi come il farmaco viene eliminato. Certo, certo. Eh intanto vi ricordo la possibilità di fare domande direttamente con la propria tastiera cliccando sull'icona che c'è sopra alla mia testa in questo momento eh con il fumetto con i i vari puntini e l'elenco potete cliccare lì, vi si aprirà una finestrella da cui potete digitare la vostra domanda e poi verranno fatte qui i nostri ospiti. Bene, volevo chiedere al al dottor Santoyemma quindi per quello che abbiamo sentito possiamo dire che eh il farmaco equivalente è sostanzialmente sicuro tanto quanto quello di marco. Eh la risposta in breve è sì eh volevo ehm agganciarmi un attimo alla domanda precedente alla risposta del professor Navarra eh per aggiungere un elemento cioè se la stessa persona se io prendo oggi una compressa da cento milligrammi sempre di acido acetilsalicidico e dopo un'ora a due mi faccio dei prelievi ovrò una certa concentrazione. Se domani o dopo domani sempre io dalla stessa scatola prendo la stessa compressa alla stessa ora del giorno difficilmente troverò la stessa identica concentrazione al millesimo perché ognuno di noi è qualcosa in movimento e un giorno il mio stomaco si è svuotato un po' più lentamente un altro giorno la sera prima avevo mangiato qualcosa di più. Questo questa variabilità che è intrinseca in ogni persona riguarda anche lo stesso farmaco la stessa scatola che noi prendiamo da anni. È evidente che non si può chiedere al farmaco equivalente di essere ancora più preciso di quanto la mia variabilità lo costringa essere ed è quindi diciamo questo che completa questa necessità di questo studio che sono studi una specie di polizza di assicurazione. Ti voglio assicurare che anche se il farmaco è prodotto con le stesse regole nello stesso modo nella stessa quantità veramente mi aspetto che abbia lo stesso effetto nella persona. Quindi io vorrei rispondere sì ma non è necessario nel senso che i due farmaci nascono sostanzialmente prodotti con le stesse tecniche per arrivare a un prodotto finito che ha una uguale qualità produttiva perché ci sono delle regole non si può inventare un modo col pestello e il mortaio di fare i farmi ci bisogna rispettare delle regole produttive. Quindi in sostanza io sto parlando veramente virtualmente della stessa cosa per cui non devo vivere questi come due farmaci che si somigliano due fratelli molto simili ma in fondo non uguali. Io sto parlando sostanzialmente della stessa cosa per cui mi devo aspettare sicuramente la stessa sicurezza in termini di effetti collaterali in termini di eventi avversi che mi poteva dare quello da cui siamo partiti e questo è molto importante altrimenti percepiamo sempre queste cose come due cose che si somigliano e io quella più economica la devo prendere per motivi di sostenibilità di economia ma non è proprio quello che vorrei io invece sostanzialmente stiamo prendendo la stessa cosa. Quindi oltre al discorso sicurezza appunto c'è già anticipato anche il discorso dell'efficacia è garantita che mentre tenendo presente le variabilità intrinsechi che abbiamo appena citato è sostanzialmente la stessa. Deve essere la stessa assolutamente non sarebbe proponibile commercializzare avere il permesso di vendere un farmaco definito come equivalente in cui si possa sospettare un profilo di efficacia un po' meno buono o al contrario anche troppo più buono perché magari rispetto al farmaco di partenza dopo vent'anni le tecniche di produzione sono migliorate riusciamo avere un prodotto ancora più performante ma il famoso test di bioequivalenza mi servirà anche a dimostrare che non sia troppo più efficace del punto di partenza e che quindi mi mette in condizione di aspettarmi la stessa efficacia. Perfetto infatti adesso pongo una domanda magari ad entrambi chi vuole rispondere il fatto che costino comunque meno non ci pregiudica quindi né la qualità né comunque l'efficacia e la sicurezza quindi il prezzo non va ad influire su questi parametri. Lo vogliamo chiarire bene questo? No, il prezzo non va ad influire su questi parametri il prezzo è più basso perché un po' per i motivi che in una delle domande precedenti spiegava il collega diciamo non ci sono i costi di sviluppo del farmaco dietro e poi perché ovviamente un farmaco equivalente nasce già con un'intesa che costi meno e poi da questo punto di vista per esempio ci sono regole nazionali in Italia eh c'è una scontistica cioè quando si va a eh stabilire il prezzo del farmaco del farmaco equivalente che parte da un minimo cioè uno sconto minimo ma ormai eh noi abbiamo delle fasce di sconto che vanno fino al settantacinque per cento in meno rispetto al costo del farmaco originatore questo c'era anche c'è stato anche a un certo momento un meccanismo automatico per stabilire le l'entità della della scontistica quindi diciamo che questi sono tutti quanti aspetti che sono con un'esperienza che ormai è diciamo a partire dalla dal duemiladue circa eh ben consolidati e ehm su questo aspetto del risparmio no adesso se vogliamo spiegare qualcosa in più a chi ci sta a chi ci sta seguendo eh quindi il il farmaco equivalente arriva con un costo con un prezzo scontato rispetto all'originator anche fino all'ottanta per cento e oltre eh il sistema sanitario nazionale se si tratta di un farmaco che viene appunto rimborsato dal sistema sanitario nazionale rimborsa il costo del farmaco equivalente non quello del farmaco originatore e anzi rimborsa il costo del farmaco equivalente che costa meno all'interno di tutto il paniere dei farmaci equivalenti che che esistono per un determinato principio attivo quindi il sistema sanitario nazionale fornisce un livello base di assistenza no è un po' un concetto di di livello essenziale di assistenza il la eh diciamo la la quota eh e e e quindi assicura a tutti i pazienti che che hanno bisogno di quel farmaco di poter ottenere il farmaco perché se prendi il generico in in farmacia non spendi nulla no? Si mantiene la possibilità comunque di poter eh avere anche il farmaco branded per chi lo desiderasse l'originator perché magari ha iniziato a fare la terapia con quel farmaco però diciamo c'è una un differenziale di prezzo cosiddetto che eh è a carico del paziente cioè se il paziente vuole eh il il branded poi deve deve metterci questa differenza di prezzo che diciamo poi io consideri che eh mediamente per ogni paziente potrebbe essere un costo anche che si può affrontare perché può essere una differenza di di qualche euro ma comunque diciamo eh sono cifre che se noi consideriamo nell'assieme per esempio nel nel duemilasedici eh l'ammontare del diciamo della il differenziale di costo fra genetici e e e branding cioè quello che i pazienti eh hanno messo di tasca proprio eh in un anno è arrivato a a superare miliardo di di euro che quanto e quanto il governo ha messo in bilancio per pagare tutti i farmaci innovativi oncologici quindi sono cifre sono bei risparmi ecco va bene e voleva dire qualcosa ma no no perché insomma quello che ha detto il professor Navarra è è completo quindi il il profilo di costo del farmaco equivalente non deve essere vissuto come un livello di qualità produttiva inferiore ma perché non ce n'è nemmeno motivo perché costa talmente poco produrre determinati farmaci storici ben noti eccetera che volontariamente scegliere di produrlo con una qualità più bassa per risparmiare è ridicolo cioè non costa di meno produrre un farmaco che intrinsecamente costa già tanto poco come singolo come singola compressa quindi non è lì che deve fare risparmio lo farà sulla confezione sarà meno colorata eh meno accattivante del del farmaco originator sarà un po' più spoglia si fanno economie di scala si fanno le scatole tutti uguali cambia magari solo un richiamo colorato per i diversi dosaggi quindi si risparmia in tanti modi ma non ha senso pensare che si possa risparmiare sulla tecnica di produzione di quella pillola di quel farmaco e quindi magari eh bene anche puntualizzare il minor prezzo non significa anche una maggiore tolleranza sulla quantità di principi attivi assolutamente no come dicevamo e abbiamo detto più volte il farmaco generico barra equivalente deve contenere la stessa identica quantità di principio attivo deve avere la stessa formulazione compressa contro compressa potrebbe può differenziarsi in alcuni componenti secondari cosiddetti eccipienti ma poi magari vediamo in dettaglio in che modo questa differenza eh può assumere un significato non deve assumere un significato sull'efficacia e sulla sicurezza del farmaco ok il farmaco equivalente eh per chi vuole rispondere quindi non è necessariamente identico visivamente comunque a quello brand giusto? no non è nei 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 criteri il colore o la forma della compressa non è vincolante ma se l'originator è in compressa io non lo posso vendere in sciroppo come equivalente devo dare compressa per compressa gocce per gocce iniezione intramuscolo per iniezione intramuscolo poi il colore della compressa può differire perché si è scelto di usare un eccipiente che determina una determinata fa assumere una determinata colorazione ma eh questo è irrilevante questo è entra in una secondo livello di problemi che immaginiamo una persona anziana una persona con difficoltà cognitive che è abituata a riconoscere le sue compresse anche dalla forma della compressa dalle dimensioni se c'è la tacchetta non c'è se la scatola quella forma piuttosto che un'altra e non imparerà mai il nome del suo principio attivo ma sa che quella è la sua compressa allora potrebbe essere un elemento di confusione aprire una scatola e trovare delle compresse che hanno una forma differente può pensare che non sia il suo farmaco o che magari sia l'altro quello che prende il pomeriggio e non la mattina con risultato a volte magari di prendere due volte nella stessa giornata la stessa pillola quindi questo è un problema di educazione al farmaco che però deve essere guidato a monte con informazioni del caso con l'assicurazione del caso se la persona ha delle limitazioni con qualcuno che lo assiste che sia in grado di comprendere che il farmaco è sempre lo stesso anche se la scatola ha un colore diverso il nome sulla scatola può sembrare diverso. Dicevamo prima professor Navarra che i farmaci equivalenti nel caso in cui il servizio sanitario rimborsi il costo rimborsa il costo del prezzo minore di tutti gli equivalenti disponibili su quella gamma di equivalenti appunto su quella molecola su quel farmaco specifico e questo in che modo aiuta comunque diciamo il servizio sanitario nazionale c'è la sostenibilità delle cure? Questo bisogna considerare un po' adesso due parole per raccontare molto rapidamente ovviamente per raccontare quello che è successo dal 2002 in poi no? Perché soprattutto dal 2002 in poi ma soprattutto nel periodo 2007-2009 c'è stato un picco di come dire di concentrazione non non plasmatiche ma di di numero di molecole che andavano fuori dalla protezione proiettuale quindi è stato un periodo in cui arrivavano molti molti farmaci generici soprattutto diciamo nell'ambito di quei farmaci che che servono per la diciamo per le terapie più importanti che si fanno in ambito territoriale no? E quindi ogni anno e in quel periodo lì adesso chiaramente siamo in una in una fase di di caduta di quella curva di numero di principi attivi che vanno fuori brevetto diciamo per questa tipologia di farmaci come dire delle terapie soprattutto territoriali però in quegli anni lì si poteva stimare no? Che eh a a fronte di un quaranta cinquanta principi attivi che andavano che andavano fuori eh brevetto in determinato arco di tempo in un anno il sistema sanitario nazionale poteva eh diciamo anche calcolare qual era il risparmio sulla spesa farmaceutica quindi cinquecento eh milioni di euro fino a sette ottocento milioni di euro all'anno eh cifre che si andavano a sommare rispetto al budget cioè a dire alla a quello che il governo ogni anno mette a disposizione per la spesa farmaceutica e questo ha ha fatto sì che noi per un periodo molto lungo abbiamo potuto mantenere un bilancio cioè a dire eh il sistema sanitario è stato in grado di pagare eh di coprire tutto il fabbisogno di spesa eh per farmaci eh all'interno di un tetto che era stato dato di spesa che era stato dato dalla che viene dato peraltro ogni anno dal dal governo quindi diciamo quelle risorse in più che arrivano rispetto al budget che che viene messo a disposizione dalla dalla legge di eh di bilancio ogni anno viene da questo tipo di risparmio e assicura come dire che si riesca a rientrare con con i compi naturalmente adesso no in questo in questo periodo storico eh stiamo capendo a posteriori qual è l'importanza dei risparmi che hanno eh diciamo sul sistema globale no che del sistema sanitario nazionale che che questo meccanismo ha assicurato perché oggi che eh come dire non ci sono più tanti farmaci equivalenti che vanno diciamo che entrano eh sulla sulla diciamo di farmaci che insistono sulla spesa territoriale ma piuttosto diciamo ehm grosso del consumo di farmaci si è spostato in ospedale dove non c'è uno stesso meccanismo perché diciamo i farmaci generici in ospedale vengono usati meno perché sono altre tipologie di farmaci che vengono che vengono usate più spesso in ospedale farmaci ad alto costo eccetera eh poiché non c'è non ci sono gli stessi meccanismi che che riguardano la spesa ospedaliera che hanno operato sulla spesa territoriale da un paio d'anni a questa parte il sistema è in sofferenza quindi prima nei primi sei mesi della del duemilasedici questa insomma un po' di di numeri un po' di politica ma detta in termini molto semplici abbiamo abbiamo perso siamo andati in rosso rispetto al al budget come era successo nei due anni precedenti quindi diciamo che purtroppo eh come dire il meccanismo che ha assicurato un equilibrio per per tanti anni legato all'introduzione dei farmaci equivalenti allora alla loro diffusione nella nella medicina territoriale adesso diciamo sta avvenendo un po' un po' sta venendo un po' meno perché diciamo non c'è uno stesso meccanismo di risparmio che riguardi la la spesa ospedaliera così un po' di di politica del farmaco ma tanto per far capire quali sono le problematiche perché è importante che che ci siano dei meccanismi di questo tipo per il come dire per il mantenimento in vita del del sistema sanitario nazionale soprattutto voglio dire adesso stiamo parlando della spesa farmaceutica che è solo una parte di tutto il il problema complessivo della della spesa per la salute però come dire una parte rilevante per per la popolazione generale certo quindi sostanzialmente diciamo che sarebbe importante riuscire ad incentivare anche l'utilizzo di questi farmaci equivalenti perché comunque ci assicurano di 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 fare l'effetto terapeutico a parità di sicurezza rispetto a quelli di marca ma consentono di liberare risorse per il servizio sanitario nazionale che poi possono tornare utili per l'accesso a terapie per i pazienti giusto sto dicendo giusto esatto sì diciamo è per grandi linee i meccanismi di risparmio della spesa farmaceutica sono sono quelli che hai descritto e ovviamente questa è una necessità che è tanto maggiore quanto più si affacciano sul mercato farmaci ad alto costo poiché c'è questo meccanismo che dicevo prima di i tetti di spesa cioè a dire noi abbiamo un budget tanto è diciamo la quantità di denaro che si può spendere no ed è un diciamo è finito nel senso che ci sono dei limiti a questi tetti di spesa allora se noi spendiamo di più da una parte dobbiamo risparmiare dall'altra pensate un attimo che la stragrande maggioranza dei farmaci per patologie molto frequenti diabete ipertensione ipercolesterolemia che noi usiamo oramai sono tutti a brevetto scaduto e per fare un confronto a volo alcuni di questi farmaci potevano costare prima della perdita brevettuale 20 25 30 euro per un mese di terapia oggi lo stesso farmaco il suo equivalente lo stesso principio attivo può costare 3 4 euro quindi abbiamo un ordine di riduzione di spesa che supera anche l'ottanta 85 per cento immaginate che non fosse mai esistita una perdita di brevetto e che a distanza di 20 anni questi farmaci continuassero essere venduti farmaci di larga prescrizione al costo originale oggi forse non avremmo potuto assicurare ai pazienti con epatite da virus c una liberazione dal virus che oggi è possibile in oltre il 95 per cento dei casi con i nuovi farmaci sicuri tollerabili benissimo costosissimi forse saremo stati uno di quei paesi in cui non ti puoi permettere il farmaco nuovo salvavita perché stai ancora pagando a prezzo pieno farmaci che hanno già dato tutto quello che dovevano quindi in questo senso quello che si diceva di liberare le risorse può voler dire assicurare farmaci innovativi ma ripeto in alcuni casi come questi rivoluzionari con altissimo costo a chi ne ha bisogno quindi è un concetto molto importante soprattutto per chi si trova magari ad affrontare patologie impegnative importanti mettiamo caso le patologie rare mettiamo caso patologie oncologiche importanti quindi diciamo il riuscire a ridurre i costi del servizio sanitario su farmaci che ormai hanno un uso consolidato e ben noto e quindi possiamo eventualmente anche riuscire a appunto scadendo il brevetto ad averne ad averli a dei costi inaccessibili riuscire in questo caso con queste risorse risparmiate poter dare accesso a terapie innovative questo è un concetto molto importante è quello che diceva prima il professore e pericolosamente stanno finendo i farmaci a brevetto scaduto o da scadere perché sono nati in un arco temporale definito e quindi il futuro scenario comincia a essere un po più grigio a meno che anche su questi farmaci più complessi più tecnologici biotecnologici di alto costo per i quali arrivano i cosiddetti biosimilari non si riesca a governare in una maniera altrettanto efficace rischiamo da qui a 5 10 anni di non poter più sostenere la spesa farmaceutica come oggi è quindi oggi una chiave potrebbe essere quella di incentivare chi non usa utilizza ancora generici a spostarsi verso appunto il farmac equivalente in modo da riuscire comunque ad avere quella spinta che manca dalla scadenza di brevetti no certo perché poi questo mette in moto i meccanismi della concorrenza più riesco a scendere di prezzo più sono competitivo più il prezzo scende se c'è poca competizione anche il prezzo a brevetto scaduto stenta a raggiungere i livelli più bassi ecco io vi ricordo che tra dieci minuti forse meno lasceremo lo spazio alle domande e sarà uno spazio abbondante per poter soddisfare tutte le vostre curiosità volevo soltanto chiudere con un'ultima domanda visto che abbiamo parlato appunto di farmaci generici per un uso abbastanza consolidato esistono equivalenti soltanto per patologie diciamo di semplice risoluzione come possono essere le influenze o cose di questo tipo o dolori muscolari o quant'altro o esistono comunque già anche degli equivalenti per malattie impegnative per malattie più gravi ci dividiamo la risposta facciamo io io faccio i farmaci facili tu fai quelli complessi allora sicuramente esistono gli equivalenti anche per i farmaci di automedicazione pensate al paracetamolo non facciamo i nomi commerciali ma riconoscono anche i bambini nella formulazione da 500 mg si può avere in farmacia anche senza ricetta esistono ovviamente una serie di paracetamolo generici 500 mg sostanzialmente identico al farmaco da cui origine è così farmaci per piccola patologia quindi da ausenza obbligo di riscosiddetti farmaci senza obbligo di ricetta medica anche per questi troviamo ovviamente un'offerta che ancora una volta generano una riduzione di spesa per i pazienti essendo farmaci che pagano integralmente spesso vediamo differenze di costo anche importanti farmaci che potevano costare 12 13 14 euro a confezione stesso numero di di compresse diciamo di unità posologica anche alla metà 5 6 euro quindi anche per questi farmaci ripeto integralmente pagati dall'utente sia un importante aiuto nella riduzione di spesa e poi ci sono quelli per le patologie complesse e poi ovviamente perché proprio all'inizio della chiacchierata spiegavamo che il meccanismo di copertura brevettuale e diciamo è di ogni farmaco che arriva che arriva sul mercato quindi non è che ci siano dei brevetti che che distinguono il farmaco importante fra virgolette o per la malattia importante rispetto e quindi essendo quello il meccanismo poi quando arriva la scadenza del periodo di copertura brevettuale vanno fuori il brevetto e quindi con la possibilità di essere di essere copiati anche farmaci importanti per cui noi abbiamo tutta una serie di farmaci antitumorali che chiaramente sono per cui esistono per cui esistono farmaci equivalenti che sono ovviamente di di competenza di impiego eh ospedaliero eh per esempio da qualche anno a questa parte sono cominciate ad arrivare anche farmaci equivalenti nella nel settore dei farmaci della della del virus HIV quindi farmaci antiretrovirali e quindi eh come dire la 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 falce del 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 brevetto che scade che gara e diciamo fa giustizia di farmaci di di ogni tipo e quindi diciamo a tutti i livelli poi dopo se ci sono dei meccanismi virtuosi di risparmio di spesa a tutti i livelli è possibile realizzare quindi questo ribadisce il concetto che che abbiamo rivedito già in più occasioni che il farmaco equivalente non è un farmaco di bassa qualità è un farmaco anche di altissima qualità per malattie molto importanti abbiamo appena sentito io direi che possiamo lasciare un po' di spazio le domande se ce ne sono e vi ricordo eventualmente come poterle fare c'è un fumetto sopra la mia testa con eh un un fumettino con dei punti di tipo elenco potete cliccare lì si apre una piccola finestra da cui potete digitare con la vostra tastiera le domande che volete fare i nostri ospiti vediamo se ce n'è qualcuna eh ecco allora che cosa sono gli eccipienti e possono influenzare l'azione del principio attivo chi vuole rispondere eccipienti nella diciamo nella composizione della del farmaco quindi eccipiente come dice la parola no va a riempire no nel senso che hanno sono diciamo delle altre componenti del del farmaco che non sono il principio attivo che però hanno un significato per proprio per la diciamo per la preparazione per la produzione del farmaco possono avere per esempio eh diciamo eh per per perché il farmaco può essere molto amaro ad esempio no allora è necessario un eccipiente che che possa rendere palatabile il il farmaco se il farmaco viene preso per os oppure poi c'è un meccanismo questo chiaramente sono questioni tecniche no eh ma quando il farmaco arriva nella nel lume dello stomaco no quando il farmaco arriva nello stomaco la compressa si deve disintegrare no e quindi devono essere presenti eh delle sostanze chimiche che aiutano questo processo di disintegrazione queste sono tutte questioni di tecnica farmaceutica e ovviamente poiché ci sono diverse alternative per ogni per ognuna di queste problematiche tecniche e possono essere usati eccipienti diversi no quindi la domanda dice anche possono influenzare l'azione del principio attivo chiaramente l'azione del principio attivo si intende che venga svolta quando il principio attivo è nell'organismo a livello dei dei suoi recettori adesso non voglio fare la la lezione di farmacologia ma insomma eh non c'è una possibilità per il per il per l'eccipiente di influenzare questa attività del principio attivo però gli eccipienti possono essere importanti nel processo di assorbimento come si diceva prima diciamo possono eh diversificare il processo di assorbimento quindi può succedere che un determinato eccipiente può ostacolare l'assorbimento del principio attivo e quindi a parità di eh quantità di principio attivo presente nella pillola poi un determinato eccipiente eh anziché un altro potrebbe pregiudicare la diciamo che a che il principio attivo arrivi a destinazione no all'interno dell'organismo quindi è un'influenza indiretta che però è importante ed è quello che poi noi cerchiamo di capire quando facciamo gli studi di di bioequivalenza. Infatti lo studio di bioequivalenza ci mette al riparo da queste possibili oscillazioni. A proposito degli eccipienti però volevo eh indicare anche per 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 un consiglio di utilità pratica forse l'unico vero problema nel fatto che la norma prevede che l'eccipiente non debba essere uguale al farmaco di origine. Cosa succede se io ho la fenilchetonuria che è una malattia particolare con cui sono nata e non posso per esempio mangiare una gomma da masticare che contiene aspartame perché mi farebbe molto male. L'aspartame può essere presente come eccipiente per dolcificare una soluzione, una bustina effervescente, una complessa. Magari nel farmaco di partenza non c'era l'aspartame ma c'era lo zucchero, il saccarosio. Nel farmaco copia, nel farmaco equivalente invece per motivi di produzione hanno inserito l'aspartame. Bene se io sono abituato a prendere il mio farmaco che non contiene aspartame devo in qualche modo essere garantito su questa differenza. Diciamo la verità prima dell'epoca dei farmaci equivalenti nessuno, anche farmacista nel momento che eroga il farmaco magari da banco si era posto il problema di chiedere a una persona ma scusi ma lei ha la fenilchetonuria perché in caso questo non glielo do. Quindi la storia dei farmaci equivalenti è servita anche ad attirare l'attenzione su queste categorie piccole e poco frequenti ma di persone con dei bisogni specifici. E quindi ci dobbiamo abituare a essere consapevoli anche del nostro problema, il medico ovviamente conosce la mia storia, sa bene che io abbia o meno una determinata patologia che mi impedisce di prendere anche quella piccola quantità di eccipiente e quindi si informerà in maniera da guidarmi nella scelta del generico equivalente che non contenga la cosa che mi faccia male. Ovviamente anche il farmacista ha il dovere di fare lo stesso tipo di sorveglianza se informato di questa necessità. Questo è uno dei diciamo piccoli aspetti marginali di difficoltà legati alla mancanza di un obbligo anche sull'eccipiente ma si tratta ovviamente di situazioni molto particolari che riguardano piccoli numeri di persone ma i cui bisogni devono essere sorvegliati anche in questo senso. È uno stimolo anche all'autogestione del proprio problema, la condivisione di questo tipo di informazioni. Ma questo vale anche per esempio per un paziente diabetico nel momento in cui un farmaco dovesse contenere dello zucchero? Ecco diciamo che su una compressa le quantità di zucchero presenti sono irrilevanti ma per esempio uno sciroppo, un effervescente che si scioglie in acqua può arrivare a contenere anche grammi di zucchero che per un paziente possono essere un'indesiderata arrivo quantità di zucchero nell'organismo. Anche in quel caso lo sviluppo di un dialogo attento fra il medico che prescrive il farmaco a brevetto scaduto e il paziente e il farmacista può servire a mettersi a riparo da questi diciamo indesiderati errori legati agli eccipienti. Quindi scegliendo diciamo un generico che abbia un eccipiente che non ci possa fare male per questo motivo qui. Assolutamente. Diciamo che quasi i generici possono quasi aver ampliato l'opzione terapeutica. Non è quasi è così. Le dico per esempio per i pazienti celiaci che oramai sono tanti e l'amido di grano ovviamente anche in piccole quantità non lo devono assumere. Se finora avevano un solo farmaco con un solo nome prodotto con amido di grano dovevano rivolgersi a un altro farmaco. Oggi nei 25 mila equivalenti in quel farmaco sicuramente troveranno un equivalente che ha il mais e non ha il grano come amido e potranno tranquillare. Ci sono aziende che proprio per scelta producono tutti i loro preparati senza lattosio e o senza glutine per diciamo tutte le pazienti. Quindi è anzi avere allargato un ombrello di protezione per questi pazienti fragili. Grazie. C'è un'altra domanda? Oh questo è un argomento. È la classica. Un argomento che ho già sentito anche io in qualche situazione. È vero che un farmaco equivalente può avere un contenuto di principio attivo con un'oscillazione massima del 20%? Vuole rispondere il professor Navarra? Non è vero. La quantità di principio attivo è quella che abbiamo detto che deve essere esattamente la stessa presente per norma di legge, per definizione, la stessa presente nell'originato. Questo discorso dell'oscillazione del 20% da dove viene fuori? e riguarda come vengono fatti gli studi di bioequivalenza a cui abbiamo fatto cenno in precedenza e riguarda anche un altro concetto che adesso parlando parlando è venuto fuori della variabilità individuale per quanto riguarda poi la cinetica di farmaci. diceva prima il collega Luigi che se io prendo un farmaco oggi e misuro le concentrazioni plasmatiche troverò un certo valore e se faccio lo stesso lavoro a distanza di una settimana troverò un valore diverso. Quindi c'è un'oscillazione nelle concentrazioni plasmatiche a parità di farmaco e a parità di paziente che è assolutamente normale. Anzi ci sono dei farmaci che hanno una elevata variabilità ed è una caratteristica proprio specifica di un determinato farmaco, di un determinato principio attivo. Quindi assumere che ci possa essere un'oscillazione delle concentrazioni plasmatiche in un determinato intervallo, quindi non sempre un 100% di concentrazioni che io posso ottenere come misura ottimale, ma posso avere per esempio un 90% il giorno prima, un 110% il giorno dopo, eccetera. È un fatto normale. Quindi come si ragiona? Io devo stabilire, e questo diciamo è stato, c'è un consenso internazionale su questi concetti, non è che poi c'è stato qualcuno che se li ha inventati dal giorno alla notte. È stato stabilito qual è il livello di oscillazione di concentrazioni plasmatiche all'interno delle quali però io non mi aspetto nessuna variazione di risposta terapeutica. Quindi se un farmaco nelle sue, diciamo, in queste oscillazioni che può avere nella persona può avere dei valori che vanno fino al 20% al di sotto di un valore medio oppure fino al 20% sopra, se io misuro questo fenomeno nel sangue mi accorgo che c'è un'oscillazione, ma se poi dovessi vedere che a questa oscillazione corrisponde una differenza di efficacia terapeutica, questa differenza non si vede, no? Quindi questi limiti che sono stati posti di oscillazione del 20% al di sotto, al di sopra di un valore medio, sono quelli che sono la normalità delle cose per un determinato farmaco, per un determinato paziente. E quindi io quando faccio le prove di bioequivalenza devo verificare che il farmaco bioequivalente si muova nello stesso intervallo in cui si muove anche di concentrazioni plasmatiche, in cui si muove anche il farmaco originator, quindi per il farmaco originator e per l'equivalente io posso aspettarmi un'oscillazione del 20% al di sotto o al di sopra di un valore medio senza nessun effetto misurabile sulla risposta terapeutica. Quindi questo famoso 20% in meno in più si riferisce a questo fenomeno della oscillazione nelle concentrazioni del farmaco nel plasma, ma non alle quantità di farmaco presenti nella compressa, per carità, quelle diciamo sono, devono essere assolutamente uguali. È un discorso un po' complicato, ma insomma... No, ma è molto chiaro. Quindi l'importante era appunto specificare che non si trattasse di un'oscillazione del principio attivo all'interno del farmaco equivalente. Un'altra domanda. In Unione Europea e negli Stati Uniti si hanno le stesse regolamentazioni per i farmaci equivalenti vigenti in Italia? Posso raccontare un poco di storia. Allora, come arriva in Italia questa normativa? Rispondiamo a una domanda. I farmaci hanno sempre avuto una copertura brevettuale? La risposta è no. Fino a una quarantina di anni fa, circa 40-45 anni fa, i farmaci non erano coperti da brevetto. Questo che cosa vuol dire? Che chiunque abbia un'officina in cui produce medicinali può decidere di prodursi l'aspirina, di prodursi l'amitriptilina, di prodursi l'ombeta bloccante? Perché non c'era una protezione brevettuale, stranamente. Che cosa succede negli Stati Uniti intorno a metà degli anni 70? Che ci si rende conto che con lo stesso nome di, per esempio, proprano l'ombeta bloccante per l'ipertensione, le malattie di cuore, ci sono decine di produttori diversi che producono sì, più o meno secondo le stesse regole, ma senza nessuna garanzia di equivalenza fra loro, proprio perché non c'è un brevetto da rispettare, quindi io so come si produce questo farmaco, me lo produco e lo vengo. L'ente regolatore degli Stati Uniti, che è il cosiddetto FDA, Food and Drug Administration, come il nostro AIFA in grande, negli Stati Uniti è tutto in grande, decide di intervenire su questo caos, anche perché i farmaci negli Stati Uniti, molti farmaci si vendono nei drugstore, nei supermercati, non c'è la tutela che siamo abituati a vedere in Italia, la farmacia, il farmacista laureato, quindi decide di metterci le mani e dice, allora capiamo un po' come siete fatti, se in base alla documentazione io vedo che tu hai usato una tecnica produttiva che potrebbe rendere il tuo propranololo un po' differente da quello di un altro, io li classifico in maniera diversa, gli metto una sigla, una lettera che li differenzia e solo quando tu mi dimostrerai che nella tua produzione sei stato veramente simile all'altro, allora io elimino questa differenza e dico questi due possono essere venduti allo stesso modo, sono veramente la stessa cosa. Da qui comincia a nascere la necessità, come si fa a dimostrare che siamo uguali, perché io ti dico io lo produco così, questa macchina metto dentro l'affare, sintetizzo, tiro, metto l'acido e viene fuori la pillola. Io dico io lo faccio in questo modo, anche questo è un buon modo, l'unico modo è fare quello che ha raccontato il professor Navarra, fare gli studi di bioequivalenze, vabbè io ve li do tutti e due, alla stessa persona, un giorno la pillola A, dopo due giorni la pillola B. Vado a vedere nel sangue arriva più o meno la stessa quantità? Se sì posso dire che questi due farmaci, uguale principio attivo prodotto da due produttori diversi, sono bioequivalenti. Da questo punto di partenza nasce la necessità degli studi di bioequivalenza perché bisognava cominciare a mettere ordine in questo gran caos di produttori. Nasce la normativa sulla copertura brevettuale, c'è bene, per evitare per il futuro facciamo le stesse storie, da adesso c'è un brevetto che da quando il farmaco è brevettato a quando scade e durerà 20-25 anni, quello che sia. Dopo, quando volete farlo uguale, dovete fare gli stessi studi che mi sono serviti e che io ho messo a punto per capire se il propranololo A è veramente molto simile al propranololo B. Da questa esperienza nasce la costruzione delle regole degli studi di bioequivalenza. L'Europa arriva poco dopo gli Stati Uniti, fa sue queste regole, le adotta pienamente per cui oggi noi assistiamo in tutto il mondo socio-economicamente avanzato, che sia Europa, che sia Est o che sia negli Stati Uniti, a una stessa logica di farmaci che per essere venduti dopo la scadenza brevettuale prodotti da un altro produttore, devono rispettare le cosiddette regole di bioequivalenza. Questo è in sintesi un po' un pezzettino di percorso. No, ecco sì, grazie perché questa è una bella storia. Però per, diciamo, poi per completare un po' quella che è la richiesta della... ...dinda, sì, adesso sono un po' lontano, va bene. In effetti, diciamo, proprio per effetto di questa storia lunga, ci sono delle differenze fra Stati Uniti ed Europa. Nel senso che in Europa, diciamo, la regola dello studio di bioequivalenza è mandatoria e quindi significa che se un farmaco non dimostra di essere bioequivalente non può proprio essere commercializzato. Quindi diciamo che in Europa noi siamo più tutelati, mentre negli Stati Uniti, poiché c'era, diciamo, si proviene da un passato più liberista, dove c'erano farmaci anche, diciamo, che non avevano una necessità inizialmente di dimostrare bioequivalenza, è possibile che esistano farmaci che stanno sul mercato ma non sono bioequivalenti rispetto a un originator. Tant'è vero che negli Stati Uniti c'è questo famoso Orange Book, quindi libro con copertina arancione, dove per ogni prodotto presente sul mercato tu puoi verificare se il farmaco copia, il farmaco equivalente è bioequivalente oppure no rispetto a un originator. quindi diciamo che sono più liberi e sono meno regolati rispetto all'Europa e agli Stati Uniti, perché in Europa se non hai la bioequivalenza non arrivi proprio sul mercato. Ma perché l'Europa e l'Italia in nata già dopo. Siamo arrivati dopo e abbiamo anche sfruttato un'esperienza in questo senso, le norme sono più a salvaguardia della della salute pubblica come si dice. Cioè nel nostro mercato non è nato il farmaco equivalente senza avere già alle spalle la normativa, lì hanno dovuto fare il percorso opposto, sono partiti da una situazione che cominciava a diventare poco garantista, un po' caotica e hanno dovuto introdurre le norme. Noi siamo nati già con quelle norme quindi in Europa, in Italia non ci può essere un farmaco venduto a brevetto scaduto che non abbia rispettato queste norme quindi è impossibile. Abbiamo un'altra domanda, per un'azienda farmaceutica l'emissione in commercio costa meno immagino riguardi di un farmaco equivalente? Bisogna capire se chi ci sta facendo la domanda si riferisce a quanto costa la tassa per poter avere un'autorizzazione all'emissione in commercio piuttosto che quanto costa lo sviluppo del farmaco? Allora fare una richiesta di autorizzazione all'emissione in commercio in Italia o in Europa ha un determinato costo fisso e questo costo è lo stesso sia che si voglia registrare un equivalente sia che si voglia registrare un farmaco originator, quindi in Italia credo che stiamo con delle tariffe intorno ai 25 mila euro per la richiesta di una IC, in Europa costa credo intorno a 10 volte tanto, 250 mila euro. Diverso è stimare quanto costa sviluppare un nuovo farmaco e queste stime in genere vengono fornite dalle aziende farmaceutiche che sviluppano farmaci originali, originator, le quali in questo momento storico ti dicono che portare sul mercato un nuovo farmaco costa a un'azienda farmaceutica fra i 2 e i 2,5 miliardi di dollari e questo qui è una delle motivazioni forti per cui le grosse aziende cosiddette big pharma che in genere portano sul mercato 3-4 nuovi prodotti in un anno, quindi devono affrontare spese per un totale di circa 10 miliardi di dollari, devono avere dei bilanci per cui questi 10 miliardi sono in più che si mette per investimenti, è una storia molto lunga, le aziende farmaceutiche sono le, diciamo in ambito industriale le aziende più etiche che esistano perché sono quelle che spendono più soldi per sviluppare nuovi farmaci, nuovi prodotti, un'azienda come può essere Merck Pfizer deve mettere in bilancio una percentuale che è intorno al 20% di tutti i soldi che guadagni in un anno per poter sviluppare nuovi farmaci, se voi considerate cosa fa un equivalente che sta in un altro settore per esempio la Apple per portare l'iPhone 8, diciamo le cifre per investimento di Apple sono al di sotto del 3% perché è più facile sviluppare telefonini che farmaci, quindi costi molto alti di sviluppo e credo di aver risposto. Volevo aggiungere una cosa, giusto perché non sembri che eventualmente si possa qualcuno fare l'idea che io e Pierluigi lavoriamo per aziende di farmaci equivalenti, visto che ne abbiamo detto finora bene, c'è un altro aspetto non trascurabile, la rete delle persone che lavorano in quell'azienda. Quando c'è un nuovo farmaco è importante che ogni medico, ogni farmacista sia informato, quindi ci vuole una rete di persone numericamente importante che deve girare tutta l'Italia, tutti gli studi, quindi servono parecchi informatori scientifici. Le aziende che propongono farmaci a vero scaduto vendono farmaci che si vendono da soli, che sono nell'uso da 15-20 anni, notissimi, usatissimi, che non hanno bisogno di essere rinforzati nel ricordo perché non se ne può fare a meno e per questo hanno delle reti di personale decisamente più ridotto delle altre industrie, quindi hanno dei costi in termini di personale che lavora sicuramente più contenuti, quindi hanno una serie di spese in meno. Questo giusto per bilanciare il panorama perché sennò sembra che diciamo solo bene di uno e male dell'altro e anche quello, un modo per limitare le spese. Vediamo un'altra domanda. Quanto detto finora si applica a tutte le classi di farmaci, immagino? Mi sembra però che i farmaci oncologici ci sia una certa resistenza anche da parte dei clinici. perché è giustificata? Ne siete a conoscenza? sapete ci sia assolutamente. Beh, questo allora, grazie per la domanda perché in realtà poi ci sono degli aspetti di nicchia, possiamo chiamarli così, per i quali poi si fanno dei discorsi che sono di maggiore cautela nello switchare, come il termine viene dall'inglese, di passare da un farmaco all'altro e questo riguarda sia alcuni farmaci, possono essere caratteristiche sia del farmaco sia del paziente, quindi per esempio i farmaci oncologici ci può essere una, se diciamo, se si è abituati a usare, a prescrivere un farmaco oncologico da tanto tempo, usare più che altro, più che prescrivere dei farmaci oncologici, si può, diciamo, per una forma di abitudine, di continuità terapeutica, e considerando che il paziente oncologico è un paziente fragile, è un paziente particolare, con questa idea in mente si può avere una maggiore reticenza al passare da un farmaco originator a un generico, così come per esempio ci sono altri settori, per esempio tipicamente il paziente epilettico, l'epilessia è un'altra nicchia in cui è spesso difficile trovare una, per ogni determinato paziente, una risposta al trattamento, quando si riesce a trovare un compenso soddisfacente, quindi uno o più farmaci per cui poi il paziente raggiunge un equilibrio accettabile, quindi di prevenzione delle crisi, allora in qualche maniera si preferisce mantenere una continuità terapeutica, anche nei termini di mantenere esattamente lo stesso prodotto. E proprio per salvaguardare questi aspetti di nicchia, che però non vanno comunque generalizzati, c'è da ricordare che c'è sempre la possibilità di indicare specificamente un determinato prodotto da parte del medico prescrittore, questo dove si ritiene che ci siano delle esigenze particolari nel dover assicurare una continuità terapeutica, per cui il medico ci mette quel minuto in più nel compilare la ricetta a dire allora voglio questo prodotto, per favore che sia questo piuttosto che un altro. C'è da dire che anche in ambito oncologico, perché esattamente il 7 è la domanda, oramai la stragrande maggioranza, anzi la totalità dei farmaci storici, per esempio i derivati del platino, sono oramai erogati tutti quanti negli istituti in cui vengono somministrati, facendo riferimento al farmaco equivalente, proprio per un problema di costo, ma di dimostrazione di totale affidabilità. E' diversa, dicevamo anche prima, la normativa sui farmaci cosiddetti biosimilari che interessano un'altra classe di farmaci molto presenti in oncologia e sulle quali bisogna completare e acquisire certezze, ma tipo il platino, il taxani, i farmaci antineoplastici di uso storico, oramai sono largamente usati e erogati dalle farmacie degli istituti oncologici acquistando il prodotto equivalente. Anche perché, per fare un breve accenno alla questione dei costi delle terapie, in oncologia i farmaci nuovi che arrivano hanno dei costi che adesso, tanto per dare un po' di numeri rispetto ai 20 euro a scatoletta che sembravano tanti, adesso che sono diventati 2 euro a scatoletta sono più accettabili. ci sono farmaci che arrivano in questo momento sul mercato, per cui il costo annuo della terapia supera abbondantemente i 100.000 euro per paziente, per cui se noi abbiamo per esempio 4-5.000 pazienti in Italia che hanno un determinato problema oncologico, fate un semplice calcolo di moltiplicazione e vedete i nuovi farmaci quanto possono arrivare a costare. Grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, questa è una bella domanda. È solo italiana la diffidenza verso i farmaci equivalenti? Com'è la situazione nel resto d'Europa? Allora, è vero. L'Italia arriva un po' impreparata. La classe medica italiana, medici e farmacisti, sono arrivati non completamente ben preparati a questa rivoluzione, a questo nuovo paradigma. E il risultato qual è? Che ci sono paesi, direi la Germania forse fra i primi, in cui la presenza del cosiddetto generico puro in campo cardiovascolare, gastroenterologico, raggiunge il 70-80% contro quel 15-18-20% forse in alcuni settori italiani. viene da pensare, cioè è difficile immaginare che la classe medica e i farmacisti tedeschi siano scriteriati, siano avventurosi e si inoltrino su terreni accidentati. Probabilmente ci sono vari fattori di tipo molto psicoterapeutico. Fidarsi delle istituzioni. Un paese dove ci si fida delle istituzioni perché sono affidabili, perché danno risposte affidabili, se ricevono un'informazione istituzionale tendono a crederci. Ci sono paesi dove le istituzioni hanno un'immagine, possono avere a volte un'immagine diversa, condita da maggior diffidenza e allora si comincia ad avere un retropensiero, un po' di diffidenza, ma se mi dicono così è perché non vogliono spendere soldi, ma non lo so, questo è uno dei fattori che potrebbe giustificare questo nostro ritardo. Ma siamo in ritardo sicuramente e se riusciamo a colmare una parte di questa differenza otteniamo quelle economie di scala di cui si diceva, cioè l'innesco della spirale virtuosa che porta all'ulteriore riduzione dei costi. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Ci sono medici di famiglia che sono contrarie all'utilizzo degli equivalenti? Ebbene, mi tocca. Allora, ci sono molti medici di famiglia, ma anche medici ospedalieri, bravissimi, professori universitari di medicina, che ancora mantengono un atteggiamento diffidente. E ho avuto modo di incontrarne tanti, parlando di farmaci generici, equivalenti, e questa diffidenza nasce da una cattiva informazione. C'è più principio attivo, ce n'è di meno, non va, è l'ecipiente chissà che cosa mi potrà fare. Cioè, il livello di informazione, di conoscenza del fenomeno, a quasi 20 anni oramai, dall'introduzione di questi farmaci, è ancora piuttosto alto e piuttosto pervasivo. E molti, come dice qualche mio collega, lo accetto per forza, ho torto collo, perché alla fine il paziente poi non può sopportare una spesa differenziale troppo alta, ma mantengo un atteggiamento di diffidenza. E questo a mio parere può nascere soltanto dal fatto di non aver avuto tempo da dedicare alla comprensione di questo aspetto dell'accesso al farmaco per aver ricevuto delle informazioni distorte. Ma non c'è dubbio che non solo fra i medici di cure primarie, ma in tutta la classe medica e anche, ripeto, per conoscenza diretta nell'ambito dei colleghi farmacisti, esistono ancora diffuse queste, diciamo, sacche di diffidenza che dovrebbero un po' la volta essere proprio eliminate. Altra domanda. Dunque, si sente parlare di farmaci equivalenti che provengono dall'India o da paesi che magari hanno livelli di controllo inferiore all'Italia. Che garanzia abbiamo? Il professor Navarra. Federico è molto attivo, questa mi sembra che devi leggere. Bene. La garanzia viene dal fatto che tutto quel processo di controllo a monte che viene esercitato a livello dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per concedere la licenza e poi anche quello che viene fatto successivamente, valgono esattamente alla stessa maniera indipendentemente dalla provenienza del prodotto. Per cui, diciamo, se il dossier proviene dall'India, un dossier registrativo, poi bisognerebbe anche spendere due parole perché su questa questione dei prodotti provenienti dall'India o dalla Cina, bisogna distinguere se noi stiamo parlando del principio attivo, cioè se viene importata la materia prima piuttosto che l'intero farmaco come prodotto finito, perché l'India è produttrice di materia prima e peraltro, diciamo, hanno raggiunto nel corso del tempo un livello qualitativo invidiabile. Forse un po' meno dalla Cina, ma insomma anche loro stanno adeguandosi a degli standard occidentali ed in ogni caso quella attività di controllo di qualità che viene esercitata dall'Agenzia Italiana del Farmaco riguarda sia riguarda tutto il farmaco e tutta la filiera di produzione, per cui ci sono anche dei controlli attentissimi su chi produce il principio attivo, per esempio, devono essere tutti i materiali certificati e le officine produttrici di principio attivo, per esempio, che siano in India piuttosto che in Cina, non è che là stanno in una zona franca dove possono fare quello che vogliono, perché gli ispettori europei e della FDA vanno fino a là a vedere l'officina come lavora se ci sono dei livelli accettabili di qualità, di buona pratica di manifattura. Quindi, da questo punto di vista siamo ampiamente garantiti dall'attività del servizio pubblico in Italia e in Europa. E poi vorrei aggiungere sempre su questa domanda, che non bisogna pensare che l'azienda che commercializza un farmaco, brand, diciamo, l'originator, si produca tutto in casa. Molto spesso queste aziende, anche grossi, acquistano materia prima prodotta in India, prodotta in Cina. Qualche anno fa è successo che un'eparina a basso peso molecolare, una delle più note in Italia, quindi brevetto assolutamente, brand originale, eccetera, si approvvigiona dalla Cina di principio attivo, c'è stata una grossa partita inquinata da dei residui di fabbricazione che ha determinato il ritiro sul territorio italiano e europeo per un certo tempo di quei lotti di produzione. Questo riguardava un farmaco col suo brevetto, con l'azienda originator, non il farmaco equivalente. Quindi questo della produzione fuori sede è una cosa che riguarda tutti i farmaci, non solo quelli equivalenti. Diciamo che quello che arriva, diciamo, ad avere l'autorizzazione all'immissione commercio in Italia comunque subisce sostanzialmente gli stessi controlli a prescindere dal sito di produzione. Ecco, giusto? Sì, esatto. Altra domanda, ci sarebbe la possibilità in futuro di ridurre la durata di un brevetto per facilitare la produzione dell'equivalente? Devo rispondere io che c'è un motivo per cui devo rispondere io a questa. Le aziende titolari di brevetto difenderanno con le unghie e con i denti l'attuale durata di copertura che già si è ridotta rispetto al passato e oramai siamo a coperture brevettuali di dieci anni più due di estensione più qualche altro spicciolo in caso particolari diciamo che oscillano fra i 12 e i 15 anni che sono già si sono un po' ridotte rispetto al passato. Quindi per così il sollievo delle casse pubbliche delle finanze pubbliche sarebbe desiderabilissimo ma naturalmente bisogna anche rispettare il lavoro e quelli che hanno investito cifre importanti senza sapere a volte dei farmaci sono stati ritirati un mese dopo le missioni in commercio e quello che è costato la loro ricerca è andato perduto quindi io mi accontenterei di mantenere un brevetto di una dozzina d'anni non di più e magari col tempo gli togliamo qualche altra cosetta. Vediamo se ce n'è qualcun'altra. Eh Federico è un fulmine Federico. No bene vuol dire che ha capito lo spirito di questi incontri di questi appuntamenti che è quello di conoscere. Con una malattia cronica può essere pericoloso cambiare sempre la marca dell'equivalente? Forse abbiamo anche risposto un po' di rile. Ma un po' abbiamo risposto nel senso che come dire i rischi di questo di quello che viene definito lo switch sono modesti e questo è un qualcosa che possiamo arrivare a dire oggi dopo aver acquisito all'Esperale un'esperienza di molti anni di impiego dei generici per molte malattie croniche nel territorio quindi siamo abbastanza tranquilli. Cioè all'interno della domanda si nasconde un aspetto che riguarda la questione dell'aderenza alle terapie per cui se mantenere l'abitudine a usare sempre uno stesso farmaco significa in qualche modo aumentare l'aderenza alla terapia che è un fatto assolutamente desiderabile allora da questo punto di vista sarebbe raccomandabile mantenere una certa continuità in questo senso benché diciamo che se questo non avviene non ci sono dei grossi rischi documentati quindi l'aderenza in realtà può essere mantenuta anche indipendentemente dal tipo di farmaco che si lì in quel caso è più importante che il paziente abbia cura di ricordarsi di prendere il farmaco al momento della giornata in cui lo deve prendere piuttosto che dimenticarsene in maniera inopinata va bene bene vedo che non ci sono altre domande per cui io potrei considerare concluso diciamo questo appuntamento ringrazio l'Accademia dei pazienti per questo lavoro che sta facendo che è importantissimo perché ci dà la possibilità di conoscere di parlare di argomenti che sono importanti per la quotidianità di ciascuno di noi ringrazio chi ne fa parte come la nostra Silvia Linda la nostra Francesca che sono tutte le persone che lavorano alle spalle di questi eventi e che permettono che tutto questo venga fatto ringraziamo anche Filippo e tutto il board perché comunque consentono di mandare avanti tutte le attività dell'Accademia con la loro preziosa guida io ringrazio i nostri due ospiti il professor Navarra e il dottor Santoyem per la chiarezza e per l'esaustività delle risposte vi ringrazio anche gli amici di Cleverage che ci hanno dato una mano per il service per le riprese audio e video ricordo che la registrazione di questo webinar sarà messa online sul sito dell'Accademia dei pazienti con altre informazioni che possono servire e eventualmente se ci sono associazioni di pazienti che volessero condividere questo video questa ripresa nei propri siti non hanno che da chiederlo teamchiocciolaccademiadeipazienti.it e saremo ben felici di potervelo fornire io ringrazio ancora tutti è stato credo un'ottima occasione di approfondimento a cui ne seguiranno anche altre e avrete tutte le informazioni dal nostro sito grazie a tutti grazie a tutti